Mi chiamo Sara, vengo da Milano e ho iniziato questo percorso con Giuseppe perché dopo diverso tempo che frequento la palestra avevo necessità di un'evoluzione, avevo bisogno di capire e riconoscere qualche cambiamento in più, non solo fisicamente ma anche internamente che forse è la cosa più importante e da due mesi sono estremamente soddisfatta di quello che sto facendo e dell'aiuto che Giuseppe mi sta dando. Quando sono arrivata da Giuseppe devo ammettere che ero un po' scettica perché appunto essendo nel mondo della palestra da diverso tempo e essendo stata seguita poi da diversi personal pensavo che non mi fosse di grande aiuto però mi ha colpito prima di andar via perché mi ha regalato questo libro in cui lui mi ha scritto una dedica a Sara il suo cambiamento straordinario e lì ho detto caspita questa persona mi ha colpito estremamente e da lì ho iniziato, gli ho dato fiducia e sono contenta sono contenta perché lui è tosto, è severo al punto giusto, sicuramente non è un percorso semplice ma lui ti dà la possibilità di poterlo seguire in maniera molto serena e soprattutto è sempre reperibile e sempre disponibile per qualsiasi domanda e qualsiasi richiesta. Io sono una persona estremamente severa con me stessa e faccio sempre molta fatica a trovare delle cose positive su di me e devo ammettere che grazie a Giuseppe piano piano sto riscoprendo a piccole dosi questa cosa e quindi è giusto che anche le altre persone possano sapere che c'è la possibilità di cambiare, di volersi bene esprimere tutta la forza che abbiamo dentro perché tutti ne abbiamo tanta 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 anche le persone insicure che credono poco in se stesse in realtà se sono seguite dalla persona giusta che riesce a dargli un percorso in questo senso riescono comunque a ottenere qualcosa di bello perché tutti noi abbiamo i requisiti per scoprire la migliore versione di noi stessi. Grazie per la visione! Grazie!